E' martedì 26 gennaio, buongiorno e bentrovati con l'informazione di Telemolise e questa mattina in regia Marco Presutti. Vediamo subito uno sguardo alle notizie. Paolo Verì, commercialista termolese, amico e consulente di Frattura, già nominato liquidatore della Fimolise Sviluppo e Servizi, è impredicato per la poltrona di nuovo amministratore della finanziaria regionale, ma ha un problema con la Banca d'Italia che potrebbe costargli la nomina. Il servizio di Enzo Di Gaetano. Nomine, 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 si prega e si vive aspettando l'incarico che puntualmente arriva, specie se si è stati vassalli fedeli del governatore di turno, ma chi vive di nomine spesso può anche morire, metaforicamente sia chiaro, di nomine. E' il caso di Paolo Verì, da sempre fedele amico, alleato e consulente personale e retribuito di Paolo Frattura in mille vicissitudini, Biocom compresa. Attualmente Verì è il liquidatore di Fimolise Consulenze e Servizi SRL, ma il suo sogno nel cassetto, diciamolo subito, è quello di andare al vertice della Fimolise S.p.A., ovvero la finanziaria della regione, con centinaia di milioni di euro da gestire. E per lui, con la sua esperienza, sarebbe l'Eden professionale. Ma c'è un piccolo problema, un incaglio o inconveniente, ignorato, chissà se volutamente o no, che potrebbe costargli una nomina già promessagli dal suo amico Frattura. Si tratta della sanzione che la Banca d'Italia gli ha combinato in qualità di ex componente del Consiglio d'Amministrazione della banca Arner S.p.A., 11.500 euro, che probabilmente per Paolo Verì sono quattro spiccioli, ma ne potrebbero condizionare o minare la sua idoneità a reggere il timone di una finanziaria, soprattutto se, per la nomina al vertice della Fimolise, è previsto il parere di Banca Italia. Da sottolineare che la banca Arner è stata commissariata e venduta alla Finint a fine 2014, anche per le gravi irregolarità riscontrate dall'autorità di vigilanza. Il primo correntista della discussa banca di Milano era Berlusconi, con lui anche Previti e Ciancimino, insomma una bella compagnia, e Paolo Verì è stato uno dei suoi ultimi amministratori. Ma torniamo alle nomine appena sfornate, o meglio, alle ultime di giornata. Quella di Luigi Dorsi, ingegnere di Isernia, coordinatore regionale di Centro Democratico, lista d'appoggio a Frattura, che è stato appena nominato nuovo direttore generale di Molise Acque. Insomma, o amici e consulenti, o alleati elettorali. Le nomine di Frattura non rompono la tradizione della parrocchia. Se non si va ammessa la domenica, niente comunione. L'ex governatore Michele Iorio e l'ex assessore regionale Gianfranco Vitaliano sono stati rinviati a giudizio per la vicenda della cessione delle quote dello zuccherificio del Molise. Per entrambi c'è l'ipotesi di abuso d'ufficio. La prima udienza del processo è stata fissata al 13 aprile. Rinviate a giudizio anche altre tre persone coinvolte nei fatti, con le accuse di truffa e falso. L'ex dirigente regionale Elvio Carugno, già condannato per altre vicende relative ad ammanchi per centinaia di migliaia di euro. E poi Vittorio Testa e Antonio Mucciardi, amministratori di società, dovranno comparire davanti al giudice monocratico il 29 marzo. E continua la mobilitazione contro il permesso di ricerca del petrolio concesso davanti alle isole Tremiti. La società che l'ha ottenuto è piegata dai debiti e rischia il fallimento. Ci dice tutto Manuela Iorio. Coordinamenti, associazioni ambientaliste, governatori e parlamentari hanno avviato una battaglia contro il permesso a perforare i fondali marini a largo delle isole Tremiti, concesso dal Ministero a fine dicembre alla Petrol Celtic. La società irlandese già qualche anno fa ci aveva provato ed era stata fermata dai ricorsi. Poi ha ripresentato nuovamente domanda spostando di poco l'area di ricerca, ottenendo di nuovo l'ok dal Ministero, che in cambio chiede meno di 2.000 euro all'anno per i diritti di concessione. Poco più di 5 euro per chilometro quadrato. Scontata la polemica che si è sollevata, una vera e propria svendita del nostro mare è stato il commento dei più, ai quali si sono aggiunte le considerazioni sulle stesse condizioni economiche della multinazionale. La concessione estrattiva è stata data alla società Petrol Celtic Italia, controllata da Petrol Celtic International. Società quest'ultima quasi sull'astrico, tra debiti e accuse di frode. C'è uno scoperto di 200 milioni di dollari e la liquidità finirà entro il mese di gennaio. A quanto pare, il giorno dopo la firma del decreto ministeriale, la Petrol Celtic ha già iniziato a cercare potenziali acquirenti del titolo concessorio. Il progetto prevede sondaggi in un'area della ricca biodiversità marina, con tecniche che gli ambientalisti considerano devastanti, come le air gun, esplosioni ad aria compressa dannose per l'ecosistema marino e causa di lesioni ai pesci, con perdita dell'udito e dell'orientamento. Secondo diversi esperti, per esempio, lo spiaggiamento dei capodogli a Punta Pene nel settembre 2014 potrebbe essere stato causato proprio da questa tecnica, che produce un rumore fortissimo che spaventa e disorienta i cetacei. La battaglia per fermare tutto è solo all'inizio. La Corte Costituzionale ha pochi giorni fa dichiarato ammissibile il quesito referendario che permetterà ai cittadini di esprimersi per evitare che permessi già accordati entro le 12 miglia dalla costa possano proseguire anche oltre la scadenza. Bisogna però andare avanti e per questo sei regioni, tra cui non compare il Molise, si preparano a proporre un conflitto di attribuzione nei confronti del Parlamento, che ha bocciato gli altri due referendum sulla proroga delle concessioni e sul piano estrazioni. Bene, è tutto per l'informazione. Passiamo adesso alla rassegna stampa e alla lettura delle prime pagine dei quotidiani. Apriamo come di consueto con il giornale del Molise.it. Si parla di nomine. Nomine tutto liscio per Luigi Dorsi a Molise Acque. Problemi in vista per Paolo Verì alla Fim Molise. Questo è il titolo di apertura del giornale del Molise.it. Vediamo le notizie in evidenza. Zuccherificio Iori e Vitaliano rinviati a giudizio con altre tre persone. Trasporti, il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso dell'ATM. Sindaco di Isernia, alta tensione nel PD. Scarabeo corre da solo con una sua lista e un suo sindaco. Dava fastidio ai poteri forti della Sicilia, perciò hanno trasferito a Isernia il prefetto Guida. Impennata di furti al nucleo industriale, sotto accusa l'illuminazione e le telecamere fuori uso. Isernia riapre la scuola dell'infanzia San Giovanni Bosco, ma la metà dei bambini resta a casa. Ed era il giornale del Molise.it. Andiamo a vedere l'apertura di primo piano Molise. Zuccherificio rinviati a giudizio Iorio e Vitaliano, entrambi a processo per abuso d'ufficio. Nel mirino della Procura il mancato esercizio del diritto di prelazione sulle quote che passarono da tesi a Perna. Alla sbarra per truffa anche l'ex dirigente Elvio Carugno, già condannato per peculato. Guardiamo le notizie in taglio alto su primo piano Molise, da Campobasso. Aule semideserte in via D'Amato, out-out dei genitori a Battista. Da Isernia la materna riapre la metà dei bimbi della San Giovanni Bosco, però resta a casa. Montacuila svista del comune, scuolabus senza revisione e alunni lasciati a piedi. Andiamo invece adesso a centro pagina. Si parla dell'avvertenza avicola, assemblea GAM, ultimatum degli operai a frattura. Il 29 vogliamo risposte o sarà mobilitazione. Post-sisma, duro a fondo dell'ACEM, i fondi da Roma sono arrivati ma la Regione non paga le imprese. Vediamo poi la presa di posizione del Vescovo Bregantini contro il decreto Cirinna. Bregantini al Family Day ci andrò per sostenere i valori in cui crediamo. La notizia dall'Abruzzo, da Vasto, corsa a tre nelle primarie del centrodestra, in Lizza c'è pure Massimo Desiati. Le notizie sportive, sesto lupo di sempre, ma Goretti è vicino Todino, 200 volte rosso-blu, orgoglioso del traguardo. Serie di Agnone, Paolucci in bilico, se non batte l'Avezzano, pronto di Meo. Venerdì festa al Savoia, i numeri di Parpiglia, Regione al fianco dello Sport, in bilancio 3 milioni e 800 mila euro. E da primo piano passiamo adesso al quotidiano del Molise. Scuola di Fossalto è vulnerabile e per via d'Amato giorno cruciale. L'Istituto del Paese è alle porte del capoluogo, al centro di un processo per presunti lavori. Non a regola, il sindaco di Campobasso, media per un ritorno pacifico in classe. Vediamo poi le notizie a centropagina. Politica, PSI, venerdì nel capoluogo arriva Stefania Craxi. Abuso d'ufficio, Iorio e Vitaliano a giudizio. Si parla della vicenda zuccherificio. Porto Cannone, abusi su minore, inizia il processo all'ex parroco comunale di Sernia. Scarabeo c'è e lancia la sfida in chiave regionale. Ricostruzione, mancati i pagamenti, l'ACEM diffida la regione. Notizie sportive, Serie D, Campobasso, terza vittoria di fila in casa. Selva Piana, torna Fortino. Sempre Serie D, l'Isernia impone il pari al Fano e trova la continuità. L'iniziativa, giornata dello sport, tutto pronto per l'evento di venerdì. Vediamo adesso la gazzetta del Molise. L'apertura è sulle imprese edili, imprese edili senza soldi. L'ACEM chiama in causa la regione, pronti i decreti ingiuntivi. Si vede frattura al tavolo della regione. Frattura che fine hanno fatto i 26 milioni di euro, si chiede la gazzetta del Molise. In taglio alto l'Oscar va ai genitori della scuola d'Amato, mentre il tapiro del giorno va a Carmelo Parpiglia. Andiamo a vedere futuro Molise. Si parla di satira in prima pagina per l'attualità, Isernia, tra Las Vegas, Sodoma e Gomorra. Tutte le attività normali chiudono e l'economia si regge sul meretricio e il gioco d'azzardo per la politica. Il commissario regionale di Forza Italia, Nunzia De Girolamo, ha nominato l'ufficio politico di supporto alle proprie attività. In taglio alto la cronaca, la cronaca giudiziaria, vicenda della cessione delle quote dello zuccherificio del Molise. Iorio e Vitaliano rinviati a giudizio. E andiamo adesso a vedere la stampa nazionale. Diamo subito uno sguardo al Corriere della Sera. Schengen in biligo per due anni. Questo è il titolo di apertura. La ministra austriaca. Il trattato sta per saltare, ma Alfano dice che per ora è salvo. Lo chiedono sei paesi, prorogare i controlli. Dossier sul rischio attentati. 5.000 militanti dell'ISIS in Europa. In taglio alto si parla poi dello scontro con l'Unione Europea. L'allarme europeo sul debito italiano. Renzi con me 50 milioni di cittadini. A centropagina la foto inquietante di un uomo con un fucile, che poi si è rivelato un fucile giocattolo alla stazione Termini di Roma, col fucile finto tra i binari. Un'ora di paura a Roma. Questo è il titolo che fa il Corriere della Sera. Si parla poi di Papa Francesco, svolta del Papa. L'abbraccia ai protestanti. Francesco parteciperà alla cerimonia congiunta per celebrare i 500 anni della riforma. E dal Corriere della Sera andiamo alla prima pagina di Repubblica. Anche qui si parla di Europa. Schengen spacca l'Europa. Se i paesi chiedono di reintrodurre per due anni controlli alle frontiere. Renzi no ai muri. Allarme di polizie e servizi. L'Isis pronta a colpire. Ruani e Mattarella uniti contro. Il terrore. Poi di spalla su Repubblica. Si parla della polemica sulle unioni civili. Lo stop di Bagnasco. I figli non sono un diritto di tutti. Anche su Repubblica. Poi la notizia dell'uomo armato sui binari a termini. Panico in stazione. Ma aveva soltanto un fucile giocattolo. Da Repubblica andiamo al quotidiano torinese. La stampa. Congelare Schengen per due anni. Questa l'apertura. I sei paesi che hanno già interrotto la libera circolazione vogliono prolungare i controlli. Europol. 5.000 terroristi pronti ad attaccarci. Per l'Italia l'incubo Balcani. Se bloccano le frontiere arriveranno 400.000 profughi. A centropagina la fotonotizia del presidente iraniano Hassan Rouhani al Quirinale. Affari e terrorismo. L'agenda Rouhani. Il presidente iraniano a Roma. L'accordo sul nucleare. Un miracolo politico. Questo è il commento. Poi si parla di unioni civili sulla stampa. Bagnasco avere figli non è un diritto. Andiamo adesso a vedere l'apertura che fanno i quotidiani romani. E cominciamo con il tempo. E ora per questi 41 reati non si andrà più in carcere. Questo è il titolo di apertura. Danneggiamento. Ingiuria. Aborto clandestino. Guida senza patente. Attiosceni. Contrabbando e altro. A febbraio. Tutto depenalizzato. Poi a centropagina c'è una doppia fotonotizia. E questo è il titolo. Lui c'è e lui ci fa. Ha arrestato uno jihadista marocchino in Calabria. Panico a termini per l'uomo col fucile. Giocattolo. Si parla poi di sport. Primo colpo giallorosso. El Sharawi è a Roma. E dal tempo andiamo all'altro quotidiano della capitale. Il messaggero. Frontiere chiuse per due anni. Schengen e gli stati dell'Unione Europea chiedono l'estensione dei controlli interni per almeno sei mesi. Negoziati falliti ad Amsterdam. L'Italia rischia nuovi arrivi. Prevista un'ondata da sud-est. Anche qui la fotonotizia. Panico alla stazione. È un italiano braccato attorno ad Anagni. Si parla dell'uomo col fucile. Terrore a termini era un giocattolo ma è ricercato. Anche qui la notizia che parla di unioni civili. A fondo di Bagnasco i figli devono avere papà e mamma. E da Bagnasco restiamo sempre in tema. Guardiamo l'avvenire. La prima pagina. Questo è il titolo di apertura. La famiglia è unica. Prima il bene dei figli. Bagnasco diritto a crescere. Con mamma e papà. La prolusione del Presidente al Consiglio CEI sottolinea le persistenti difficoltà dei poveri e sollecita l'accoglienza dei profughi. A centropagina la notizia di politica internazionale. No al nuovo governo. Libia sempre nel caos. Il Parlamento di Tobruk vuole modificare la composizione. Andiamo al fatto quotidiano che, come al solito, ha un titolo controcorrente rispetto agli altri quotidiani nazionali. Indagini sulle banche. Il governo vuole prendersi pure. La finanza si parla di nomine al posto dello sgradito capolupo in ballo delle femmine, toschi e carta. In taglio alto, Ruani 17 miliardi e niente diritti umani. Si parla poi di politica internazionale pronti a combattere l'Isis assieme all'Italia misurata. Le milizie libiche stanno preparando la guerra. Bruxelles avverte Roma. Ecco la polemica invece con l'Unione Europea. Stabilità minacciata dalle sofferenze bancarie. E dal fatto quotidiano passiamo all'apertura di Libero. C'è una vignetta di Benni con Matteo Renzi in versione Banzai. La supertassa sui voli va tutta in Marchette. Questo è il titolo. Schianta Italia, biglietti aumentati solo per finanziare la spesa. E l'Europa minaccia Renzi. Attento debito pubblico insostenibile. Vediamo poi una lettera di Papa Bergoglio. La preghiera del Papa contro le nozze gay. Questo è il titolo che fa Libero. Andiamo invece a vedere il secolo d'Italia. Tappeti rossi per Rouhani. Per Renzi contano gli affari, non i diritti. Umani le notizie in primo piano. Nessun profugo nelle discoteche. E la sinistra tedesca perde le staffe. Mattarella riceve la torre. E Renzi non ha mai mosso un dito per i Marò. Questo è il titolo polemico che fa il secolo d'Italia. Andiamo al quotidiano campano il mattino. Frontiere chiuse per due anni. Il vertice dell'Unione Europea prepara la stretta su Schengen e sul debito. L'Europa incalza Roma. Conti italiani nel mirino. Rischio sciocca a medio termine. La replica del tesoro. Non c'è nessun pericolo. Di spalla, bagnasco, i figli. Non sono un diritto. Si parla poi a centropagina di sport del Napoli. I guainne insigne. Meglio di Diego. E careca la volata scudetto. La coppia è la più prolifica della storia. Azzurra preso grassi dall'Atalanta. E dal mattino di Napoli passiamo alla gazzetta dello sport con le notizie sportive. Si parla della sfida. Napoli-Juventus. Scudetto in HD. La sfida tra argentini accende la corsa al titolo. I guainne di Bala. Chi vale di più? Il Pipita che sta trascinando il Napoli. È al top della carriera. Paolo è il nuovo centro di gravità della Juve. E può crescere ancora, scrive la gazzetta dello sport. Poi in taglio alto. Si parla dell'Inter. L'Inter punta. Tutto sui gol di Eder. Ciao Guarin. Shanghai lo aspetta. Bene, con le notizie sportive si chiude la nostra rassegna stampa. L'appuntamento è alle 14 con il telegiornale di Telemolise. A voi tutti una serena giornata.